Tornai in Italia e dopo poco tempo fui convocato dal Ministero degli Esteri Italiani che aveva ricevuto un'informativa dai nostri servizi segreti in Ucraina che dicevano che il mio nome era finito su una lista che non era la classica lista che era su internet con tutti i giornalisti ma una seconda lista in cui si diceva che i servizi segreti italiani mi sconsigliavano caldamente di non tornare nell'Ucraina governativa mi sconsigliavano caldamente e alla mia domanda ho detto perché, che cosa mi potrebbe succedere? dice sicuramente non ti arrestano ma magari ti trovano una bomba a mano in albergo queste sono le parole del funzionario, adesso non ne faccio il nome del Ministero degli Esteri Italiani Giorgio Bianchi, fotoreporter, giornalista e documentarista è stato bloccato ieri mattina all'aeroporto di Kiev per il governo ucraino è persona non gradita e per 5 anni non potrà fare ritorno in Ucraina dove si stava recando per un documentario sul Donbass Giorgio e la sua fotocamera hanno visto molte cose come ad esempio ciò che è successo davvero a Maidan cose che lui ci rivela in questa intervista esclusiva dove non nasconde nulla neppure le sconvolgenti immagini che ha scattato è facile allora capire perché Giorgio, in Ucraina, sia persona non gradita è solo un altro modo per definire un testimone scomodo allora il mio lavoro oramai in quell'area dura dal febbraio 2014 quando mi recai per la prima volta a Kiev durante gli scontri di Maidan chiaramente dai telegiornali si evinceva che fosse in atto una sorta di rivoluzione in quanto si vedevano questi manifestanti che si scontravano con la polizia praticamente quotidianamente gli scontri erano molto violenti conferiti da ambo le parti e pertanto mi sono voluto regare lì per vederci un po' più chiaro e atterrato all'aeroporto di Kiev la prima anomalia che ho riscontrato fosse che la città era apparentemente tranquilla come se non stesse accadendo nulla e questo cozzava decisamente con le immagini che provenivano dai TG perché le immagini che provenivano dai TG ci riferivano di un paese sconvolto e che si stava rivoltando interamente contro il presidente Viktor Yanukovic ma sul campo, come si suol dire, la situazione era ben diversa in quanto la città scorreva normalmente, il traffico era intenso le persone andavano a lavorare, i bambini andavano a scuola, i negozi erano aperti e quindi appena arrivato mi chiedevo se non fosse finito tutto perché dalla televisione, dai giornali, insomma dalle fotografie sui giornali, sui siti su New York Times, Guardian eccetera l'immagine del paese era completamente diversa anzi poi si tentava di far coincidere l'immagine del paese con le immagini di Kiev e le immagini di Kiev sono le immagini in quella che poi ho scoperto essere un'area molto ristretta attorno ai palazzi governativi un po' come se si combattesse, si manifestasse nel centro di Roma intorno al Montecitorio, al Senato e che poi in tutti gli altri quartieri, Gianicolense, Portuense insomma immaginiamo tutti gli altri quartieri di Roma la situazione fosse del tutto normale e questo un po' ci dovrebbe far riflettere sul fatto io sono fortemente critico nei confronti dei media mainstream e sono molto lieto di essere ospitato in un blog in quanto io ritengo che oggi non vi sia altro spazio di libertà nell'informazione se non in blog e nella controinformazione fatta via social in quanto l'informazione cosiddetta mainstream è fortemente viziata dalle agende e dalla narrazione che si vuole far intendere e da quello che Marcello Fo ha definito il frame cioè si costruisce un frame della notizia e si mantiene l'ambito della narrazione all'interno di questo frame di questa cornice tutto ciò che all'esterno non viene divulgato o non viene raccontato e pertanto si fa credere al pubblico a determinata situazione e diciamo che per me Kiev è stato una sorta di laboratorio a cielo aperto di questi meccanismi perché li ho vissuti sulla mia pelle nel senso io sono partito da qui con un'immagine con un frame, con un quadro nella mente quando sono arrivato lì l'immagine che era di fronte ai miei occhi non corrispondeva con l'immagine che io avevo nella mia mente e questo ti pone subito delle domande ti pone degli interrogativi quando poi il giorno successivo al mio arrivo mi sono recato nelle zone a quel punto ho cominciato a vedere quello che vedevo in televisione ma quello che vedevo in televisione anche lì le inquadrature si soffermavano sui manifestanti con il caschetto da operaio con i vestiti civili eccetera ma se ne vedevano pochi di quelli che in realtà stavano scontrandosi con la polizia che in realtà erano gruppi paramilitari di estrema destra ben addestrati che si sapevano ben muovere sul campo che sapevano come costruire una barricata sapevano come attaccare la polizia come ritirarsi lanciavano bottiglie Molotov, sassi in alcuni casi sparavano anche contro la polizia io ho assistito davanti ai miei occhi all'uccisione di un poliziotto che è stato colpito in pieno volto da un proiettile sparato dai manifestanti e aveva un buco nella maschera antigas non il vetro ma la plastica davanti agli occhi e la plastica era completamente ricoperta di sangue non l'ho potuto fotografare perché un suo collega secondo me sbagliando mi si è parato di fronte impugnando il manganello e mi ha fatto capire che se io avessi fotografato lui mi avrebbe colpito questo secondo me è stato un errore clamoroso da parte sua dal punto di vista della comunicazione perché da noi in occidente stavano arrivando solo immagini di manifestanti feriti dalla polizia in quel caso c'era un poliziotto ucciso dai manifestanti quindi secondo me sarebbe stato molto importante dal punto di vista delle forze governative e dimostrare anche questo aspetto e di manifestanti feriti ne ho visti parecchi ma io penso che nessun paese occidentale sarebbe stato accettato un modo di manifestare con barricate, lanci di bottiglie Molotov spari, sassi, bastoni, mazze, catene e quant'altro perché di questo parliamo insomma e soprattutto non sarebbero mai stati tollerati dei gruppi, immaginiamo se non lo so, Casa Pound e Forza Nuova con i loro militanti non so quanto addestrati perché io quelli li ho visti questi non so se sono addestrati allo stesso modo ma schierati in campo come una compagine medievale si scontrassero con la polizia io penso come la polizia reagisce anche alle manifestazioni spesso degli operai a maggior ragione avrebbe reagito di fronte a dei manifestanti armati e volenterosi di assaltare i palazzi del cosiddetto potere quindi per me è stato innanzitutto uno shock perché poi in qualche modo questi sono i primi sintomi del rendersi conto un po' dell'incubo ruelliano nel senso che quello che ci viene narrato dai media spesso non corrisponde alla realtà o in qualche modo la vizia o in qualche modo ti dà una visione molto parziale di quello che è una realtà molto più complessa che andrebbe raccontata nel suo insieme per dare al pubblico un quadro generale di quello che sta accadendo io mi sono trovato lì in mezzo ai manifestanti sia dal lato della polizia sia dal lato dei manifestanti ho visto la polizia stare ferma sotto la neve sotto la pioggia a difesa dei palazzi ho visto i manifestanti stare sulle barricate essere riforniti essere forniti di elmi militari di maschere anti gas e la domanda che mi facevo sempre era chi pagasse il conto di tutto questo perché insomma gestire una situazione di questo tipo comporta dei costi sia organizzativi che proprio di esborso di denaro notevole poi ci fu la sparatoria in quel giorno un po' di cifre non sono mai state chiarite con esattezza si parla di più di 70 morti tra i manifestanti ma anche tra gli uomini delle forze dell'ordine io che ero lì sinceramente non riuscivo a rendermi conto della provenienza degli spari perché io feci una foto che secondo me è molto iconica in parte fortuita perché è uno scatto singolo di uno sguardo di un ragazzo che con terrore cerca di capire da dove vengano gli spari della polizia la cosa assurda è che il suo sguardo non si rivolge verso dove era posizionata la polizia ma verso l'hotel Ucraina che era alle nostre spalle perché anch'io capivo che gli spari chi c'era nell'hotel Ucraina per quello che sapevate voi? l'hotel Ucraina di fatto era la base dei ribelli nel senso dei manifestanti perché lì c'era il loro ospedale da campo da lì partivano le squadre da lì c'era probabilmente il centro di comando e gli spari provenivano da uno dei piani elevati è interessante notare che esiste un video della BBC che è facilmente visibile sul web in cui il report della BBC con il suo operatore anzi il reporter indica all'operatore contando le finestre qual è la finestra dalla quale lui riesce a intravedere la canna di un fucile che c'era la finestra che c'era la finestra to us yeah fuck okay get the fuck out of here that is coming straight out of that window which one up there okay yeah our hotel that window um okay one two three four fifth row from the left second from the top one that was open well i don't think he fired at us actually and it might who knows who which side it was this is obviously no kind of protection at all but at least you can't be seen and then there is a famous interpretation that was published by the minister of eastern eastern or the minister of eastern eastern and Mrs. Pesch, the other representative of the foreign policy of the European Union in which he affirmed that he had the proof that a sparrow that in gran part of the minister of the manifestant. Then there is the investigation that was conducted recently by Jan Michalessin in which he was able to discover some of the that he was able to do to get to some of the избers of theirобод staff that he was able to pay me my life 5000€ for that to kill him for one of the first time to kill him. The fact that he was able to do to find a case that's what is done. That is what that, of course, is done by the fact that he is verified. I can't confirm that this hypothesis that within that case the police did not understand the effects that he was able to witness to the police. I suppose that in part the police abbia sparato, ma abbia sparato contro i manifestanti che sparavano contro la polizia, perché c'erano anche i manifestanti, io ne ho fotografati alcuni armati di carabina che sparavano contro la polizia, c'erano alcuni armati di pistola che sparavano contro la polizia e addirittura ne ho fotografato uno colpito a morte probabilmente dalla polizia, ma a questo punto non lo sappiamo di certo, che aveva un candelotto di dinamite in tasca. Quindi gli spari provenivano da ambo due le parti e comunque anche le inchieste successive hanno rivelato che molti dei proiettili che hanno colpito sia i manifestanti che la polizia probabilmente provenivano dalla stessa arma. Questa è una storia che secondo me andrà tutta riscritta, ma che secondo me ci getta una luce sulle cosiddette rivoluzioni colorate o primaveri arabe, si parte sempre da manifestazioni studentesche spesso mobilitate via social di persone comuniche, spesso studenti appunto, che si battono contro la corruzione. Diciamo che la corruzione è un po' endemica ovunque, noi italiani ne sappiamo qualcosa, sì va bene manifestare, però da qui a passare all'assalto dei palazzi del potere secondo me il passo è abbastanza lungo. Poi diciamo che queste manifestazioni vengono infiltrate, anche qui noi abbiamo un esempio con i black bloc che spesso infiltrano queste manifestazioni, provocano la polizia causando poi una repressione da parte della polizia, quindi questi gruppi paramilitari appartenenti a Pravi Sector, settore destro tradotto in italiano e Svoboda hanno infiltrato queste manifestazioni e hanno cominciato a scontrarsi violentemente con la polizia. La polizia risponde con brutalità, con fermezza, chiamiamola come vogliamo, ma questo accade ovunque, insomma io non penso che negli Stati Uniti se protesti contro la polizia lanciando molotov restino indifferenti, io penso che il giorno dopo trovi la Guardia Nazionale dell'esercito schierata, un po' come successe a Ferguson con le manifestazioni degli afroamericani dopo l'ennesima uccisione nelle strade americane di un afroamericano appunto. Quindi io in questo modo, però questa è una mia personalissima opinione che voglio condividere in questo spazio di libertà perché non penso che la stampa o Repubblica ti facciano dire queste cose, che sono la mia testimonianza di fatto, che vale quello che vale, ma diciamo che le foto parlano da sole, insomma le foto non sono di pacifici manifestanti. Quando partirono gli scontri più violenti, diciamo dopo il 18 febbraio, giornalisti e fotografi arrivarono con i container e diciamo che i manifestanti imbarcavano chiunque nelle loro fila per riportare. Il giorno degli spari non c'era tantissimi, c'era il reporter della BBC che ha visto quello che ho visto io sostanzialmente, cioè che dall'hotel Ucraina sparavano, questo è verificabile. Tanti giorni dopo questo l'inizio degli scontri? No, gli scontri diciamo che erano iniziati nel novembre 2013, diciamo che poi c'era stata una fase quasi di stallo in cui diciamo si erano create due posizioni fisse, congelate. Yanukovic riceveva pressioni per sgomberare la piazza con l'esercito, ma pure lì non so se la questione è stata in parte sabotata dall'interno o in parte lui non se l'è sentita di andare fino in fondo perché aveva paura di un bagno di sangue probabilmente, perché anche questo è inspiegabile, tu mantieni una situazione di quel tipo, cioè i parazzi governativi sotto assedio, i manifestanti sulle barricate con gli accampamenti eccetera, lui avrebbe potuto reprimere il tutto mandando l'esercito a coadiuare i Berkut che sono le forze speciali antisommossa, chiaramente ci sarebbero stati dei caduti perché i manifestanti come dicevo erano armati e ben determinati a resistere, ma lui avrebbe potuto sgomberare la piazza. Probabilmente non se l'è sentita di essere consegnata la storia come colui che aveva represso nel sangue il suo popolo e anche questo secondo me è un sintomo che quello che accadde il 20 febbraio è quantomeno sospetto, cioè di punto in bianco la polizia comincia ad aprire il fuoco contro i manifestanti, cosa che non era fatto. Siamo parlando del 2014 in questo momento. Parliamo esattamente del 2014. Quindi diciamo che lui probabilmente si è potuto fare dei rimorsi da una parte per una questione diciamo umanitaria nei confronti dei suoi concittadini, dall'altra magari anche per non passare dall'Assad della situazione nei confronti dell'Occidente, della Nato, dell'Europa. Sì sì, è esattamente questo, anche perché io adesso, noi usiamo, tu hai usato giustamente il termine alla Assad, perché nella vulgata comune in Occidente Assad è il macellaio, il sanguinario, cioè io... Secondo il frame questo ovviamente. Assolutamente, secondo il frame, secondo me è esattamente l'opposto, nel senso anche Assad secondo me è stato tra virgolette troppo democratico e per questo che si trascina dietro sette anni di guerra, perché probabilmente anche lui se avesse represso le insurrezioni violentemente, fin dall'inizio la situazione non sarebbe precipitata fino a questo punto. Io immagino, invito sempre il pubblico a riflettere se le stesse cose accadessero da noi, noi ricordiamoci Genova in cui c'è stato morto Carlo Giuliani, ma immaginatevi negli Stati Uniti di scontrarsi contro la polizia con bottiglie Molotov, sparando, tirando sassi, è impensabile, ci sarebbero cariche a cavallo, ci sarebbe l'esercito, ma lo stesso accaderebbe in Italia, in Francia, non è accettabile da nessuna parte questo tipo di manifestazioni. Senti, torniamo un secondo su quello che hai visto tu in Ucraina, lasciamo un attimo da parte le valutazioni che comunque sono utilissime e secondo me anche corrette, ma vorrei capire, mi dicevi prima c'era l'area, la zona in cui si combatteva e poi fuori che cosa succedeva? Fuori la mattina c'era la fila per prendere la metro, per andare al lavoro, i bambini con la loro cartellina andavano a scuola, il traffico era assolutamente regolare. Mi stai dicendo che noi abbiamo visto semplicemente una piccola porzione di quello che era la realtà ucraina di quel momento? Assolutamente sì, perché se è in atto una rivoluzione, l'unico giorno, per essere precisi, l'unico giorno in cui io ho trovato la strada deserta tornando all'ostello dove dormivo fu il giorno del 20 febbraio. Lì veramente trovai l'ostello chiuso con una catena, si erano chiusi dentro e le strade erano deserte. Solo quel giorno. Il giorno dopo già la situazione si stava sciogliendo e il giorno dopo ancora iniziarono le commemorazioni, secondo me strumentali, nei luoghi dove erano stati uccisi i manifestanti. C'erano manifestazioni imponenti, grande presenza di pubblico, questo sicuramente sì, c'erano i funerali, io ho assistito a parecchi funerali, una popolazione commossa e sentitamente commossa, questo è tutto vero, ma prima di quella data e una settimana dopo la città era assolutamente identica, non è successo come se non fosse successo nulla. C'era una grande indifferenza, magari qualcuno andava in piazza, andiamo a vedere che succede, si prendevano un panino con il sala e lardo locale, un bicchiere di tè, guardavano quello che succedeva e poi andavano via. Sulle barricate torno a dire, c'erano le bandiere, c'erano le insegne, c'erano dei gruppi paramilitari di estrema destra e magari in mezzo a loro ci saranno stati anche studenti, per carità, non chi lo nega. Però io se dovessi dare una composizione, ma poi penso che vedrete anche dalle foto che verranno montate con questa intervista, vedrete, fatevi un'idea voi. Feci una mostra a Milano in cui partecipò il rappresentante di Amnesty International della Lombardia e la cosa veramente simpatica fu che appena entrato lui mi disse, e parliamo di una persona che per il ruolo che riveste quantomeno dovrebbe essere abbastanza informato, mi disse ma che veramente i manifestanti erano così armati? A me è venuto da ridere, vorrà dire che i mezzi di informazione non le hanno mandato le immagini giuste. Senti, dopo il 2014 sei tornato in Ucraina? Come l'hai trovata? Che Ucraina hai visto? Che Ucraini hai trovato? No, allora, la cosa che è interessante dire è che dopo il 2015, io mi recai, abbiamo detto la prima volta, nel 2014, poi tornai subito nel febbraio 2015 quando la guerra già era scoppiata e prima di partire ricevetti una lettera… no, allora, nel 2015 io partì e atterrai a Kiev, mi accreditai presso il Ministero degli Interni ucraino, quindi tutto in regola e mi recai nel Donbass attraversando il confine dall'Ucraina governativa. Mi recai nel Donbass, documentai la guerra, parliamo del periodo della battaglia di Debalsevo, parliamo di Donetsk con forse 100.000 abitanti su 2 milioni, parliamo di bombardamenti quotidiani con Grad, Uragan con pezzi di artiglieria da 122, da 152 mm, parliamo proprio di guerra totale. Mi trovavo in questa situazione, ma diciamo che è stato fatto tutto in regola, io avevo l'accredito del Ministero degli Interni, avevo i timbri dei checkpoint al passaporto, adesso ve la faccio breve, poi magari ci ritorniamo sopra. Tornai in Italia e dopo tempo fu convocato dal Ministero degli Esteri italiani, che aveva ricevuto un'informativa dai nostri servizi segreti in Ucraina, che dicevano che il mio nome era finito su una lista, che non era la classica lista che era su internet con tutti i giornalisti, ma una seconda lista, in cui si diceva che i servizi segreti italiani mi sconsigliavano caldamente di non tornare nell'Ucraina governativa, mi sconsigliavano caldamente. E alla mia domanda ho detto perché, che cosa mi potrebbe succedere? Dice sicuramente non ti arrestano, ma magari ti trovano una bomba a mano in albergo. Queste sono le parole del funzionario, adesso non ne faccio il nome, del Ministero degli Esteri italiani. E questo perché? Perché probabilmente non volevano che i fotografi, i giornalisti documentassero quello che stava avvenendo in Donbass, probabilmente non si voleva questo, si tentava di scoraggiare, perché l'unico canale per arrivarvi ufficialmente è il canale governativo, passando per l'Ucraina ufficiale. Altre persone andavano, io all'epoca non ero entrato dalla Russia, ma ero entrato proprio dall'Ucraina governativa, quindi a maggior ragione non c'erano elementi per dire che io avessi compiuto un qualcosa di illegale. La cosa che a me più impressiona è che quando io intervisto la popolazione in Donbass, magari sulle autorità adesso separatiste delle repubbliche, ne dicono di tutti i colori, ma nessuno si azzarda a dire qualcosa contro il governo ucraino, hanno il terrore. Soprattutto gli anziani che fanno avanti e indietro magari per andare a prendere la pensione, soprattutto le persone che lavorano in Ucraina. Chi ha affari o transita dall'Ucraina governativa a quella separatista, quindi il Donbass e quindi le autoprogrammate repubbliche di Donetsk e Lugansk, chiunque faccia questo tragitto ha il terrore di parlare. Io adesso sto girando un documentario, ho intervistato tantissime persone, una persona che ho intervistato, all'inizio si è lasciata andare, poi mi ha chiesto, mi ha detto per favore non pubblicate questa cosa perché io potrei avere dei guai enormi. Noi dobbiamo capire che la questione Ucraina, per noi europei soprattutto, è una questione capitale, cioè non è un evento secondario. Innanzitutto parliamo del primo conflitto armato dell'Europa del XXI secolo. Ai confini con la Russia, ma a tre ore di volo da casa nostra, dove c'era gente che viveva assolutamente come noi, che nel 2012 hanno ospitato gli europei di calcio di Ucraina e Polonia, dove c'era un aeroporto costato mezzo miliardo di euro che è completamente ridotto in macerie. Tutto questo a noi ci riguarda molto da vicino, tutto questo ha determinato le sanzioni contro la Russia, se mi è permesso un ulteriore giudizio personale io penso che lo scopo della guerra in Ucraina fossero le sanzioni contro la Russia, cioè il colpo di Stato che è stato fatto in Ucraina è stato fatto perché si sapeva assolutamente che la Russia non poteva strategicamente rinunciare alla Crimea e che quindi sarebbe successo quello che è successo con la Crimea. Il Donbass è più un vaso di goccio tra i vasi di piombi, alla Russia interessava la Crimea, non tanto il Donbass, perché una volta che perdi l'Ucraina, perdere il Donbass non cambia niente. Certo loro hanno a cuore le popolazioni russofone, che di fatto sono russi, che hanno sempre vissuto lì, sicuramente la Russia ha a cuore queste persone, però secondo me il gioco non vale la candela per avere le sanzioni ed avere tutto il mondo contro. Quello che interessava era la Crimea per via della base che sta lì da sempre praticamente. Quindi di fatto io mi sento di poter dire, senza tema di essere smentito, che in Ucraina è iniziata la nuova guerra fredda. Qual è la storia più interessante che hai trovato? Le storie interessanti se ne trovano tantissime, anche perché se combatti contro il mainstream non ti puoi concentrare sulle news, ma devi cercare le storie, perché le news sono affogate dal frame. Quindi tu puoi uscire da questa cappa solo trovando storie interessanti. La storia più incredibile che mi ha trovata è quella di aver incontrato, quella di un minatore cieco che lavora nel Donbass. Cieco nel senso della Repubblica cieca? No, no, cieco nel senso di non vedente. Ah, non vedente, ok. Sì, infatti ho usato un termine politicamente scorretto. E lui è stato fantastico. Lui mi ha raccontato che nel suo villaggio praticamente lui lavorava in una fattoria, lui badava i maiali e c'erano due tirikun. I tirikun sono queste montagne artificiali fatte dal materiale di risulta delle vecchie miniere sovietiche. In un tirikun, quindi in una montagnola c'erano quelli di Bravi Sector e nell'altra montagnola c'erano i soldati separatisti. Si sparavano da una montagnola all'altra e la fattoria dove lavorava Sascha, questo è il nome del minatore, era esattamente nel mezzo e quindi loro ogni giorno sentivano queste esplosioni, eccetera, e continuavano a lavorare. Poi è successo che un paio di questi colpi di artiglieria è esploso nelle vicinanze della fattoria che a quel punto è stata chiusa e lui si è ritrovato senza lavoro. Precedentemente lui perse la vista otto anni a causa di un incidente con una bottiglia di ammoniaca che gli esplosa sul volto. Però nonostante questo per un periodo aveva lavorato come minatore, nel senso lui già aveva il know-how perché per lungo tempo ha lavorato comunque come minatore. Quando si è ritrovato senza lavoro lui ha tentato di continuare a lavorare nelle miniere perché soprattutto in quella zona era l'unico lavoro. O ti arruolavi nelle milizie, nell'esercito oppure andavi a fare il minatore perché l'economia, il resto dell'economia è crollata sostanzialmente. Non potendo chiaramente fare il soldato ha tentato di trovare lavoro come minatore ma si è visto chiudere le porte in faccia a causa della sua disabilità. Solo un uomo molto coraggioso e di grande spirito che è un tartaro che gestisce una miniera ha deciso di dargli un lavoro, gli ha dato un lavoro ma non per sfruttarlo, gli ha dato un lavoro per dargli una mano perché inizialmente far lavorare un non vedente dentro una miniera di carbone che è un buco che va 200 metri sotto terra in cui a malapena una persona riesce a starci dentro in un labirinto di cunicoli nei quali una persona vedente non riesce a orientarsi sembra una cosa assurda. Comunque gli ha dato una possibilità e oggi io posso testimoniare che Sascha lavora meglio di due minatori messi assieme. Si orienta dentro quei cunicoli senza avere la minima idea di dove stia andando ma solo contando i passi e percependo l'ambiente circostante e quindi facendosi un'idea del punto in cui arriva poi arriva sul posto di lavoro a quel punto lui non lavora di martello pneumatico ma spala il carbone riempie appunto i sacchi per mandarli in superficie in questo è di una velocità impressionante come di una velocità impressionante sono i suoi movimenti all'interno dei tunnel. Va detto che lui per arrivare sul posto di lavoro impiega mezz'ora 40 minuti a piedi la mattina va con suo papà che lavora nella stessa miniera dove lavora lui appoggiandosi su una spalla e camminando a una velocità che io non riuscivo a stare dietro attraversando ferrovie, boschi, vallate e tutto e poi per tornare indietro viene preso o dalla figlia o dalla moglie lo vengono a prendere e lo riportano a casa. Sono gli unici momenti in cui io l'ho visto non in difficoltà perché appoggiando una mano sulla spalla si muove comunque velocissimo ma sono gli unici momenti in cui ho notato la sua disabilità perché sul posto di lavoro non la noti minimamente. Il nuovo Stakhanov sostanzialmente io lo definirei il nuovo Stakhanov e lo definirei soprattutto un esempio che mi fa ridere che certe volte lui incontra delle persone che chiedono l'elemosina, persone abili al lavoro e lui sorride e gli dice guarda se ho trovato un lavoro io lo puoi trovare anche tu. Giorgio Bianchi, fotoreporter, grazie mille per essere stato con noi. Dove possiamo trovare queste fantastiche foto che abbiamo visto durante l'intervista? Tutto il mio lavoro è sul mio sito oppure sui social network perché io oramai mi ritengo quasi, perdonatemi il termine, un artista di strada e mi piace usare i social come usano gli artisti di strada, condividere la propria arte, chiamiamola mia, non è un'arte, è un mestiere, con il pubblico perché a questo punto se le devo svendere a un giornale preferisco regalarle. Giorgio Bianchi, fotoreporter, grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista. Grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista. Grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista. Grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista. Grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista. Grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista. Grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista, grazie mille per l'intervista. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.